Le domande a me non mi sono state poste. L'unica domanda che mi è stata posta, che così io pensavo fosse uno scherzo, quanto sei disposto a perdere? E io dissi niente. Marco Gagliardi è uno dei tanti risparmiatori coinvolti nella vicenda Banca Etruria, rimasto scottato in seguito al decreto salvabanche del 22 novembre scorso. Fa parte della nutrita schiera degli obbligazionisti subordinati che in conseguenza al salvataggio dell'istituto bancario si è visto a zerare i risparmi. E da adesso che è entrato in possesso del Mifid, il questionario utile ad accertare la comprensione del rischio avrebbe riscontrato alcune incongruenze. Questo è il Mifid che ho firmato e io leggendo questo Mifid ho riscontrato delle incongruenze enormi. Non solo non l'ho letto, io non l'ho mai visto questo. Non l'ho mai visto. Quando sono andato a richiederlo per questa storia, io è la prima volta che lo vedo. Le domande che non corrispondono fanno pensare che non me le abbiano fatte le domande perché se mi dice quanti figli hai e qui c'è scritto uno e io ne ho due, quante case hai io ne ho zero e qui ce ne sono scritte due, quanti investimenti hai presso la nostra banca da 250-500 mila euro magari, quindi vuol dire che loro a me non me le hanno fatte queste domande perché con il mio patrimonio il massimo che mi avrebbero potuto vendere erano 10.000, massimo 20.000 con il mio patrimonio, invece qui me ne sono state vendute 90.000. In mezzo a questi soldi chiaramente le ragazze che lavorano per me, insomma io ho sei dipendenti, sette che lavorano per me da tanti anni e chiaramente avendo lasciato i soldi in azienda io me ne sono preso cura e li tenevo lì, infatti tra questi soldi c'è anche le liquidazioni, il TFR di loro, capito? Quindi il danno per me è doppio, non è solo i 90.000, è che loro hanno già maturato il loro TFR che l'avevano lasciato in azienda e quindi per me il danno non è 90 ma è doppio, è 180 perché comunque loro hanno già maturato il loro TFR.